Pare, dico pare, io non ci credo, è Giova, ma pare che la ministro De Gironamo avesse molta influenza nelle decisioni della sanità a Benevento. Non è indagata, però ci sono delle registrazioni imbarazzanti rubate in casa di suo papà durante delle riunioni. La riflessione è che Benevento ha dato alla politica italiana Mastella e la De Gironamo. Io, per il futuro di Benevento, proporrei una politica del controllo delle nascite ispirata vagamente a Wu Jintao. Cioè, io proporrei questa, una legge che dice che da Benevento deve uscire al massimo un politico ogni cento anni. Almeno limitiamo i danni. Comunque Giova, dopo anni di brutte figure con l'Europa...